Perché è così ricco? Non lo so, è un filantropo. Credo che ti abbia trovato un lavoro. È capace di tanto. Quell'uomo può fare tutto. Dopo anni finalmente lo incontrerò di nuovo. Io non l'ho visto ancora. Sei tu il dottor Luke. Molto piacere. Sono felice che tu sia tornata. Benvenuti a casa. Frenny, l'hai comprata per noi. L'ho comprata per voi tre. Frenny, hai coperto i miei prestiti? Luke, tu lavori per me ora. Penso che ci nasconda qualcosa. Ne ha passate tante. Fatte le via! Sono pronta ad aiutarti, ma devi dirmi quello che è successo davvero. Non doveva andare così. Se tu fossi rimasta, sarebbe stato diverso. Me ne può dare un altro. Mi dispiace di essere andata via allora. Dobbiamo lasciarci il passato alle spalle. Qui si è un bel indio? Qui si è un bel indio? Grazie a tutti.